Passiamo all'interrogazione numero 32227, i deputati di Stasio ed altri concernenti iniziative per il rafforzamento della presenza italiana in Libia al fine della tutela e della promozione degli interessi nazionali in campo economico e commerciale. La deputata Yolanda di Stasio ha facoltà illustrare la sua interrogazione. Prego. Grazie Presidente, Ministro. Nel marzo 2021 si è insiediato in Libia un Governo di unità nazionale che ha ricevuto la fiducia della Camera dei rappresentanti e per la prima volta dal 2014, ha riconsegnato alla Libia un'autorità esecutiva unica, rappresentativa di tutto il Paese e pienamente legittimata. Di fronte all'ampiezza delle sfide e degli impegni che il Governo di unità nazionale e la nazione libica sono chiamati ad affrontare nei prossimi mesi, l'Italia, che è sempre stata tra i Paesi più attivamente impegnati nella ricerca di una soluzione politica alla crisi libica, è chiamata ora a rafforzare e moltiplicare il proprio impegno, per consolidare pace e sicurezza in Libia e garantire un aspicabile ritorno alla normalità del Paese. Non sfuggo del resto le opportunità in termini di prospettive economico-commerciali e di crescita che si presentano al nostro Paese nello scenario di una Libia finalmente stabile e sicura. In questo contesto, Ministro, le chiedo con quali prossime iniziative, a cominciare dal rafforzamento della presenza istituzionale italiana in Libia, il Governo intenda cogliere le opportunità dei più recenti positivi sviluppi nel Paese, con una particolare attenzione alla tutela e alla promozione degli interessi economico-commerciali italiani. Grazie. Grazie. Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maia ha facoltà di rispondere. Prego. Grazie Presidente, grazie deputate e deputati. Vorrei fare innanzitutto una premessa. Solo un anno fa in molti ritenevano impensabile che la Libia potesse avere un Governo di unità nazionale rappresentativo di tutte le realtà territoriali. Oggi tutto questo è stato possibile grazie al processo avviato dalle Nazioni Unite, un processo che l'Italia ha sempre contribuito ad ispirare e a sostenere nelle varie sedi internazionali, tra cui la Conferenza di Berlino di dicembre 2019. Teniamo ferma l'attenzione sul consolidamento delle condizioni di sicurezza sul terreno e sullo svolgimento delle elezioni previste dal percorso di pace il 24 dicembre 2021. In questa cornice possiamo finalmente affermare che siamo di fronte ad una nuova era delle relazioni tra Italia e Libia. Come prima cosa, al fine di valorizzare la ritrovata unità del Paese, è interesse dell'Italia assicurare la nostra presenza istituzionale anche in Serenaica e in Fezzan. Accanto alla nostra ambasciata a Tripoli, unica di uno Stato europeo a restare aperta anche nei momenti più difficili, stiamo infatti riattivando il Consolato Generale d'Italia a Bengasi, dove abbiamo già nominato il Console Generale Carlo Batori. Ed è in via di istituzione anche un consolato onorario a Seba nel Sud. Contestualmente a queste iniziative abbiamo già dato disposizione per la riapertura di un ufficio dell'Agenzia per il Commercio Estero a Tripoli e per la riattivazione dell'Istituto Italiano di Cultura a Tripoli. Il rafforzamento della nostra rete in Libia sarà fondamentale per riattivare progetti sospesi a causa dell'instabilità del Paese e per lanciarne di nuovi. Tra i numerosi ai quali stiamo lavorando vorrei evidenziarne alcuni. Nei prossimi mesi partirà la realizzazione del progetto italiano dell'Otto Est dell'autostrada costiera che attraverserà tutto il Paese dal confine tunisino a quello egiziano. Riprenderanno poi i progetti infrastrutturali e aeroportuali, in particolare quello dell'aeroporto internazionale di Tripoli, grazie ai sopralluoghi già svolti da ENAV e allo sblocco delle lettere di credito al Consorzio Eneas. Dal mio ultimo incontro con la Ministra degli Esteri Libica è peraltro emersa la prospettiva di coinvolgere le aziende e le competenze italiane anche nella ricostruzione dell'aeroporto di Bengasi. Sul fronte della cooperazione energetica stiamo negoziando un memorandum al fine di ampliare la nostra collaborazione anche nel settore delle rinnovabili. In ambito migratorio siamo ben consapevoli dello sforzo del Ministero dell'Interno, come evidenziato la collega Lamorgese. E dal canto nostro abbiamo confermato al Governo libico il sostegno dell'Italia attraverso la cooperazione allo sviluppo e il fondo migrazioni. Vorrei ricordare che siamo l'unico Stato europeo oggi a effettuare evacuazioni umanitarie dal Paese e continueremo a farlo con convinzione. In conclusione è stato possibile compiere questi importanti passi grazie all'impulso impresso dalle ultime missioni in Libia, quella all'indomani della formazione del nuovo Governo libico per impostare il rilancio del rapporto bilaterale, quella insieme ai miei colleghi tedesco e francese per riaffermare il sostegno europeo, quella in cui ho fiancato il Presidente del Consiglio Mario Draghi per definire i progetti di collaborazione e quella della Ministra Lamorgese per ragionare delle politiche di sicurezza. Dopo l'incontro con la Ministra degli Esteri libica, Najla Mangush, a Roma pochi giorni fa, è già in corso di programmazione una visita del primo Ministro libico di Baiba a Roma, durante la quale abbiamo intenzione di convocare un business forum delle imprese italiane per continuare ad incrementare le nostre opportunità di cooperazione economica. Anche grazie alla nomina di un inviato speciale per la Libia, ruolo ricoperto egregiamente dall'Ambasciatore Pasquale Ferrara, siamo in grado di garantire un costante monitoraggio e coordinamento di tutti i progetti programmati o in corso. I prossimi mesi saranno fondamentali per il popolo libico e l'Italia continuerà ad essere al fianco della Libia, che rappresenta un nostro partner strategico nel Mediterraneo. La facoltà di replicare il deputato Berti, prego. Grazie Presidente. Ministro degli Esteri, siamo soddisfatti della sua risposta. Gli italiani devono sapere che la Libia è la priorità numero uno per la politica italiana nel Mediterraneo. L'Italia c'è e ci sarà, con il ruolo di capofila per una politica estera europea capace di difendere gli interessi nazionali e dell'Unione nel Mediterraneo. Se vogliamo evitare una seconda ondata migratoria, l'UE deve essere unita nella stabilizzazione della regione e compiere lo sforzo di coordinare le politiche estere nazionali. In dieci anni di conflitto militare, che ha generato dolore, paure e insicurezze nel popolo libico, oggi si deve aprire una nuova stagione, una stagione di rinascita e prosperità per il popolo libico. Con la fiducia al governo De Baiba si sono create le condizioni per un processo di unificazione istituzionale, militare ed economico. La stabilizzazione della Libia presenta opportunità in termini di prospettive commerciali. Su questo tema va un ringraziamento al sottosegretario Maglio Di Stefano per l'ottimo lavoro svolto con la Commissione Economica Congiunta Italo-Libica Cecil. Nel 2012, all'indomani della rivoluzione, il nostro interscambio con la Libia valeva 15 miliardi, nel 2019, sette anni dopo, a 6 miliardi e l'anno scorso solo 2,6 miliardi. In Libia dobbiamo facilitare un processo di legittimazione dal basso che permetterà la creazione di istituzioni politiche forti in grado di affrontare problemi economici, gestire i flussi migratori e liberare il territorio dalle forze armate straniere. La riattivazione dei collegamenti aerei Italia-Libia è il primo passo da fare e qui si sottolinea l'impegno della nostra ENAV. Dobbiamo altresì aumentare, come l'ha detto Ministro, la presenza della nostra diplomazia tramite l'apertura dei due consolati a Benghazi e nel Fezzan. La stima di questo Parlamento va anche al corpo diplomatico italiano, che ha permesso all'Italia di essere l'unico Stato dell'UE a mantenere l'ambasciata in Libia, anche nei momenti più bui. L'Italia e questo Parlamento sono vicini al popolo libico. Grazie Ministro Di Maio e buon lavoro.